Allora Alessio, grazie. Abbiamo fatto una cosa, so che mettere poi i bambini sui social non è una bella cosa, ma dobbiamo farlo, se tu sei d'accordo. Perché possiamo dire che si possono fare scarpe da calcio su misura. Alessio, ecco, avrà questa scarpa particolarissima, perché non avrebbe potuto mettere una scarpa da calcio classica. Allora abbiamo fatto una di bella, perché non ce l'avrà nessuno, ce ne sono due. La scarpa da calcio di bella, ma infatti per giocare a calcio o a rugby? A rugby, quindi non gioca a calcio, quindi questa è la scarpa per giocare a rugby, una scarpa elastica, col fondo da calcio, e ci giocherà con la punta rinforzata per giocare a rugby, quindi sarei più forte di tutti. Va bene? Grazie. Grazie. Grazie.